come una mamma tieni un altro emily buongiorno ragazze ma voi sapete che giorno è oggi? una festa oggi lo so lo so io oggi è il giorno di san valentino ma cosa vuol dire san valentino chi è? la festa di san valentino è la festa di tutti gli innamorati perché oggi tu puoi regalare un bigliettino a forma di cuore a una persona che ti piace di più anche noi faremo i bigliettini no io propongo di preparare i biscotti a forma di cuore che ne dite? oh che bello sì 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 sono d'accordo c'ho fame allora andiamo in cucina vieni aspettatemi oh allora adesso prepariamo i nostri biscotti ci serve un po' di farina eccola qua sì un'uovo sì brava grazie amichetta e un po' d'acqua così mescoliamo tutto per bene oh è facile sì Emily non è difficile per niente così matarello e facciamo così e come faremo i cuoricini? per questo ho delle formine a proposito potete per favore trovare dove sono? dove saranno nascosti i cuoricini? ah eccolo e dove l'altro? l'ho trovato brave ragazze quanto sei buffa amichetta tieni la formina oh oh quanti biscotti ma chi li mangerà? una sorpresa per voi tra poco arriverà Leo oh oh che buon profumo non vedo l'ora di assaggiare i nostri biscottini aspetta amichetta aspetta amichetta prima adobbiamoli oh sono pronti i nostri biscotti oh e come li adobbiamo? con lo zucchero a velo guarda qui c'è uno rosso blu e verde e poi si può mettere la crema sopra tutto è pronto? si eccolo qua è arrivato Leo ciao Leo ciao ragazze buon San Valentino assaggia Leo abbiamo preparato i biscottini a forma di cuore mmm che bontà mmm anch'io ho preparato una sorpresa per voi un regalo grazie Leo anche tu puoi fare un regalo a un tuo amico a San Valentino e noi ci vediamo molto presto ciao ciao